Se ti vuoi trasferire di qualche centimetro verso la console, sentiamo la sintesi dell'intervista e voi dovete indovinare qual è l'errore. Allora, ben trovato. È l'intervista di oggi. Siete dei cappelli grini. Dovremo cominciare? Sì. Lei sta sempre a dieta. Sì. Sicuro? Sì. Sì? Sì. Sei innamorata. Adesso? Sì. Sì? Sicuro? Sì. Secondo me tu sei innamorata di Mario. Buon cibo! Ehi, 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 il che sarà mai? Ehi, 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 ehi. Nei oggi di cosa ha paura? Ho paura del male. Ho paura del male. Ehi, 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 il che sarà mai? Le mie kunne le favole? Sì. Sì? Sì. Prego, dicete chi ha. Vedo la luna, vedo le stelle, vedo Caino che fa le frittelle, vedo la tavola parecchiata, vedo Caino che fa la frittata, la frittata, la frittata, la frittata. Meno male che ti sei fermato da solo, se no chiamiamo Beppone o quelli della sicurezza. Molto bene, bello? Grazie. Ma la voce di Costanzo è modificata o è così davvero? Così. Grazie.